Ovviamente molte sono le materie sulle quali Italia e Spagna si trovano ad affrontare lo stesso punto di vista e molte sono le convergenze che già in questi mesi all'interno del Consiglio europeo abbiamo spesso trovato su diverse materie. Particolarmente importante questo rapporto diventa nel momento in cui la Spagna si prepara ad assumere la presidenza di turno del Consiglio europeo e credo che fosse particolarmente importante per noi attraverso questo incontro fare lo stato dell'arte sulla sintonia tra le nostre nazioni sulla necessità che l'Europa, particolarmente sul fatto che l'Europa in una fase così delicata su alcune materie che noi stiamo discutendo e che abbiamo discusso anche nel bilaterale di oggi, dia risposte efficaci ed immediate. I temi li conosciamo, sono i temi che abbiamo discusso e che discutiamo quotidianamente negli ultimi mesi, particolarmente per parte italiana ma anche per parte spagnola, il tema delle migrazioni è un tema molto importante. Su questo il cambio di passo, l'abbiamo detto diverse volte, di un'Europa che oggi guarda con molta più attenzione alla difesa dei suoi confini esterni è un passo importante ma conveniamo che nel prossimo Consiglio europeo di giugno si possa fare stato degli avanzamenti concreti da parte della Commissione europea sulle iniziative che è necessario portare avanti a partire dagli stanziamenti, dagli investimenti fondamentali per collaborare, cooperare e trovare soluzioni strutturali con i paesi del Nord Africa. Abbiamo ovviamente parlato di competitività e di industria dove pure le nostre posizioni sono spesso state convergenti, anche qui bisogna fare attenzione a che si percepisca un utilizzo di due pesi e due misure o di due velocità tra le varie decisioni che il Consiglio europeo prende, per cui come si è proceduto velocemente sulla concretizzazione dell'allentamento degli aiuti di Stato che era caro ovviamente ad alcuni paesi, si confidiamo che si possa fare con la stessa velocità il lavoro che è necessario sia a una piena flessibilità nell'utilizzo dei fonti esistenti e sia andare avanti su un fondo sovrano che in diversi abbiamo chiesto per favorire e sostenere le industrie europee. Poi c'è la grande questione della governanza economica, qui il ruolo della Spagna sarà fondamentale perché tutti auspichiamo di arrivare a una riforma del patto di stabilità e crescita entro la fine di quest'anno, come voi sapete la posizione italiana ma non è solo quella italiana è avere delle regole di governance nelle quali rispetto a quanto accaduto in passato si dia alla crescita sufficiente attenzione invece di concentrarsi molto più sulla stabilità perché l'unico modo di garantire stabilità fino a prova contraria è avere una crescita strutturale e duratura. Noi crediamo che sia fondamentale portare a casa questa riforma entro la fine dell'anno e ovviamente siamo pronti, abbiamo ribadito il nostro pieno sostegno al Presidente Sanchez per lavorare insieme durante la presidenza di turno spagnola per arrivare a questo obiettivo. Ovviamente abbiamo parlato della guerra in Ucraina, non solamente ribadendo il nostro pieno sostegno alla causa ucraina come sapete continueremo a garantire a 360 gradi sostegno al Presidente Zelensky e al popolo ucraino fin quando ovviamente questo sarà necessario ragioniamo anche di come favorire passi in avanti verso una pace giusta e rispettosa ovviamente della integrità territoriale e della sovranità ucraina. Come sapete l'Italia ospiterà a fine aprile una conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina per cui noi stiamo già lavorando per il futuro, per la ricostruzione e ovviamente anche su questo ci troviamo d'accordo. Chiaramente siamo molto interessati entrambi a rafforzare ancora di più il nostro partenariato strategico partenariato che ci ha dato in questi anni di relazioni grandi soddisfazioni penso che si possa fare ancora di più, ancora meglio nell'interscambio su settori che oggi sono particolarmente strategici ovviamente immagino il tema energetico e penso alla questione anche della cultura perché ci sono nazioni che sono legate da legami molto solide e che della valorizzazione del loro patrimonio culturale hanno fatto anche un pezzo importante della loro forza gli scambi economici bilaterali sono cresciuti nel 2022 molto dimostra che c'è chiaramente una grande convergenza e che ci sono anche delle potenzialità che intendiamo rafforzare negli ultimi anni, negli ultimi mesi sono riprese con forza le nostre relazioni bilaterali in Spagna sono già stati il ministro Fitto e il ministro San Giuliano in Italia sono venuti il ministro dell'interno, il ministro dell'agricoltura e il ministro della difesa spagnoli questo bilaterale ovviamente è un altro passaggio fondamentale la settimana scorsa a Roma abbiamo svolto il foro di dialogo italo-spagnolo che è un appuntamento annuale che serve a dare impulso al dibattito sui temi europei, economici e sociali ovviamente il fatto che credo che vada acceso anche il riflettore sul fatto che ci sono imprese italiane che in Spagna continuano ad avere spazio, ad aggiudicarsi anche importanti gare penso a quella che adesso riguarda l'alta velocità sulla quale c'è insomma una impronta italiana molto importante con i nostri Freccia Rossa dimostra che nella realtà spagnola, nella società spagnola il know-how italiano, insomma la capacità delle nostre imprese è sempre ben vista vale la stessa cosa ovviamente per quello che riguarda i nostri amici spagnoli e penso che tutto questo vada rafforzato anche, torno su questo, valorizzando le nostre radici comuni i nostri legami storici, il fatto di essere due nazioni mediterranee molto simili, molto vicine che si capiscono anche quando parlano, anche se parlano ciascuna nella propria lingua e quindi è sicuramente un rapporto che intendiamo rafforzare quindi grazie al Presidente Sanchez per essere stato qui, alla sua delegazione e ovviamente siamo pronti a lavorare insieme per tutto quello che sarà necessario ai nostri rispettivi interessi nazionali e all'Europa Grazie Presidente Meloni La settimana Santa è un visto che ci sono tantissimi spagnoli e spagnole che visitano questa bellissima città ogni volta che vengo qui e vaio di fronte ai mezzi di comunicazione o con le interviste con i giornali italiani condivido l'esperienza di questi cinque anni come Presidente del Governo spagnolo e che quando l'Italia e la Spagna lavorano insieme avvengono cose buone per le nostre società e facciamo sì soprattutto che l'Europa si muova questo è successo durante la pandemia l'Italia e la Spagna sono stati i paesi purtroppo più colpiti dal virus del Covid-19 proprio per la presenza turistica forte in Italia e Spagna abbiamo dato una risposta comune condivisa che poi all'inizio era sembrata una chimera ma poi è stata accettata dall'insieme dei paesi europei che sono i fondi europei in un contesto difficile come quello in cui viviamo questi fondi ci permettono di far crescere le nostre economie e di creare posti di lavoro oltre a industrializzare le nostre economie e questo si è verificato anche nell'ambito di altre politiche per questo credo che come ha detto bene la Presidente Meloni sono importantissimi i rapporti Italia e Spagna sono fondamentali per questo apprezzo molto e ringrazio le parole spese dal Presidente Meloni e la volontà del Governo spagnolo è quella di continuare a portare avanti i vertici Italia e Spagna che si sono già tenuti in questi anni quest'anno è possibile perché abbiamo la Presidenza spagnola dell'Unione Europea e poi vedendo le agende della politica e delle elezioni politiche in Spagna ci sarà impossibile organizzare un nuovo vertice Italia e Spagna però siamo rimasti per organizzarla per l'anno 2024 dove continueremo a stringere questi rapporti strategici bilaterali e anche nell'ambito europeo inoltre la ragione della mia visita è condividere con la Presidente Meloni e con il Governo italiano le priorità tra Spagna e l'Italia e soprattutto durante la Presidenza spagnola nel secondo semestre abbiamo detto che gli obiettivi sono allineati fanno parte delle principali preoccupazioni e interessi dei nostri cittadini e anche delle preoccupazioni che abbiamo a livello europeo uno è il patto di immigrazione e asilo credo che è stato fatto un passo avanti importante perché alcuni Paesi hanno riconosciuto il fatto che l'immigrazione irregolare clandestina è un problema europeo non è un problema solo dell'Italia o della Spagna o di Malta o di qualunque dei Paesi di primo ingresso è un problema europeo che richiede una risposta europea richiede una risposta europea dal punto di vista politico per raggiungere un accordo tra i 27 Stati membri ma ha bisogno anche di risorse economiche per far fronte alla sfida dell'immigrazione clandestina e all'interno del patto immigrazione e asilo così chiamato l'Italia e Spagna dobbiamo parlare di meno della dimensione interna dell'immigrazione e parlare di più della dimensione esterna dell'immigrazione dobbiamo parlare della cooperazione della collaborazione con i Paesi di origine e con i Paesi di transito questa è l'impostazione, l'approccio dell'Italia nonché della Spagna e che ovviamente quando abbiamo parlato con il resto dei Paesi sul patto dell'immigrazione e asilo e abbiamo chiesto quello che è ragionevole l'Italia e la Spagna sono responsabili del controllo dei nostri frontiere ma abbiamo bisogno che si aggiunga alla responsabilità un altro concetto, quello della solidarietà e in questo lavoro di fare un avvicinamento equilibrato al patto di immigrazione e asilo e unire anche l'aspetto della solidarietà bene, la Spagna si spenderà nel secondo semestre poi abbiamo parlato anche di competitività la settimana scorsa ho avuto l'occasione di visitare il Presidente a Pechino gli ho comunicato la difficoltà per l'Europa di vivere un rapporto asimmetrico tra Cina e Europa un'Europa che si apre apre i suoi mercati agli investimenti al commercio e allo sviluppo delle imprese cinesi nel continente europeo ma questo non lo riscontriamo in Cina quando parliamo di investimenti o aziende europee che vogliono entrare nel mercato cinese e dico questo perché non soltanto in Cina ma anche negli Stati Uniti riscontriamo politiche commerciali protezioniste e questo ci deve far riflettere a noi europei come reindustrializzarci come affrontare la sfida il dibattito della competitività delle nostre economie e qui siamo nuovamente d'accordo Italia e Spagna però vorrei evidenziare un punto che il Presidente Meloni ha già accennato e che riteniamo fondamentale entrambi i governi la competitività oggi risiede nella possibilità di avere prezzi economici dell'energia e i prezzi che devono sostenere le nostre imprese le nostre famiglie le nostre industrie bene questi costi non sono accettabili in Italia e Spagna ancora prima della guerra abbiamo chiesto una riforma a fondo del mercato elettrico europeo e non possiamo propagare a prezzi del caviale un'energia che con le rinnovabili ci costerebbe molto 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 di meno quindi dobbiamo fare una riforma della regolamentazione europea su come viene deciso e stabilito il prezzo dell'energia in Europa perché questo non soltanto danneggia le nostre famiglie e già questo basterebbe come ragione principe per modificare il mercato ma rappresenta una grossa minaccia di deindustrializzazione dell'Europa che oggi è inaccettabile quindi uno dei principali impegni su cui ci spenderemo durante il secondo semestre con l'appoggio dell'Italia per promuovere una urgentissima riforma del mercato elettrico e come ha ben detto la Presidente Meloni le regole fiscali la governance economica abbiamo visto tensioni finanziarie durante il fine settimana per fortuna il sistema finanziario europeo è molto più forte adesso però a seguito della risposta che abbiamo data alla pandemia alla guerra dobbiamo ridefinire nelle regole fiscali della governance in Europa e tutto questo dobbiamo farlo quest'anno non possiamo aspettare il 24 o il 25 dobbiamo farlo nel 2023 e per questo credo che in tal senso come ha ben detto la Presidente Meloni siamo totalmente allineati sul bisogno di riformare la governance economica e le regole fiscali entro il termine dell'anno insieme a ciò ovviamente vogliamo trasmettervi da parte del governo spagnolo come ha ben detto la Presidente Meloni l'appoggio al governo dell'Ucraina e sul piano militare economico ma anche umanitario sono più di 180.000 170.000 riprofughi ucraini quelli che già vivono nel nostro paese stiamo parlando della Spagna che è geograficamente molto lontano dall'Ucraina è una cifra che aumenta e questo ci dà un'idea chiara delle dimensioni della sfida umanitaria che dobbiamo affrontare a seguito di questa guerra e nel piano bilaterale vorrei integrare alcune questioni già dette dalla Presidente Meloni il foro Spagna-Italia è fondamentale e cara Presidente vorrei anche rivendicare il 150esimo anniversario dell'Accademia di Spagna a Roma e mi ha detto che probabilmente inizieranno dei lavori e a settembre e ottobre potremmo mettere in atto questi lavori un'Accademia che è stato rifugio creativo di personaggi importantissimi della cultura spagnola e per concludere questo intervento vorrei ricordare la direttrice d'orchestra spagnola del 1927 Maria De Paolos che è stata anche la prima donna che ha avuto una borsa di studio in questa Accademia importantissima a Roma e come ha detto la nostra Giorgia Presidente le piazze le università in Spagna e in Italia scambiano studenti imprenditori i nostri vincoli sono vivi e forti l'unico errore che è stato commesso nel corso dei molti anni tra Italia e Spagna è che la politica è stata guardata con sfiducia tra Italia e Spagna come se avessimo qualcosa su cui competere mentre invece sono molte le cose che possiamo condividere e se la condividiamo possiamo competere molto meglio insieme in questo scenario complesso per cui la mia esperienza politica nel corso di questi anni ovviamente quella per cui insieme in Italia e Spagna rendiamo le nostre società più forti l'Europa sarà più forte e questo è quello che troverete nel governo spagnolo questo troverà sempre l'Italia nella società spagnola una società che ama l'ammira e rispetta l'Italia e chiede stabilire i migliori vincoli possibili e i migliori rapporti possibili con il governo italiano una grande gioia essere qui cara Giorgia continueremo a lavorare in questa in questa epoca così difficile e complessa che ci è toccato vivere grazie grazie Grazie.